E' stata una bella gara oggi tra le strade di Melbourne, una vittoria strameritata. Dimmi Davide, dove pensi si sia decisa la gara di oggi, visto il risultato finale? Oggi ha vinto chi ha dimostrato maggiore sicurezza in pista. La capacità di mantenere la calma, persino nei momenti di massima attenzione, è stata fondamentale per capitalizzare gli errori degli altri piloti. Da lì alla vittoria, direi che il passo è stato breve. E' stato un gran premio incredibile con un finale mozzafiato. Posso solo immaginare l'emozione dei tre piloti sul podio. Oggi hanno compiuto un'impresa eccezionale. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Il capitano aumenta il suo vantaggio nel campionato. Dopo un'incredibile giornata di gara, Davide chi ha guidato meglio oggi? In genere mi concentro sui piloti che danno più spettacolo durante il corso della gara. Ma oggi sono rimasto colpito da Max Verstappen, che ha guidato senza sbavature dal primo all'ultimo giro. Ora vediamo la classifica costruttori. Il team del pilota proprietario passa in testa la classifica. Nel frattempo, dopo un ottimo weekend, la Red Bull migliora la propria posizione nel campionato. Beh, che finale per un altro favoloso fine settimana di corse. Grazie a tutti per l'ascolto. Ci vediamo la settimana prossima! Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie a tutti. 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 Buongiorno capo, sono appena state accreditate le entrate settimanali dei nostri sponsor. Andiamo bene, i costi non superano le entrate. Grazie a tutti. Grazie per essere intervenuto e aver risolto. Grazie a tutti. I nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.